Buongiorno a questo nuovo video, io sono MR20 e oggi giocheremo a Slug Terra Acqua Tetra Ok, siamo ancora al punto di prima, un secondo eh Ok, tutto a posto, continuiamo Cioè, non siamo al punto di prima perché avevo fatto un video che poi è uscito male e quindi non l'ho più messo Avevo fatto questo, però è troppo, come si può dire, troppo difficile da farlo quindi non lo posso più fare Allora, volevo dire che tra un po' uscirà fortemente sul canale o su questo o su un altro Anche Minecraft e altri giochi Vai L'arsenale, cioè, sono tutti livello 3 Sì, tutti i miei Slug che uso sono di livello 3 Quindi siamo messi abbastanza bene, vai Che figata, che figata, che figata È fighissimo quando fa questo cosa, con i pallini Vabbè Sì Come, ah ok Mi sembrava sciogliere qualcosa Mezza vita Ok Questa pure non è tanto facile Oggi usciranno due video perché magari non ho giocato e quindi per recuperarli Ok Forse oggi farò anche il coso con, come si chiama fortnite Forse 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 Te lo dico subito C'è il 10% di possibilità Quindi Non ci dovete tanto sperare Perché non è proprio così facile come sembra Ok Non mi sembrava più difficile però questa missione Ok Come l'ho detto Marco Oh mamma E dai Ok Ok Continuiamo No A dire la verità è abbastanza difficile Perché non mi aveva caricato il coso Ok Sono morto Non manco più Così Poi lagga un botto Vabbè Io continuo Tanto i soldi No Bravo Adesso di qua Bene così Ah sì il coso Ma anche lei No dai però È finito Dai Ok Boom Mamma Le sintone mi fa paura No Perché non va Ok No mi è morto a corda Ok Finisce questa missione e poi spengo Perché se no Mi si chiede un improvviso Ok Ehi Che vuoi mi fa Sul treno Sul treno in tangenzione Andiamo a comandare Mi sono auto Oh alla fine Non me lo ricordavo che era così Ok Ok ma scatta tantissimo Quanto scatta Quanto scatta Ma sta scattando Non ci sta più niente Ah Ah ecco perché Mi ha fatto lo spaventa Pasta Bene Quanto manca Io sono qui Devo andare qui Quindi Così Così sta In cognizione Qui c'è un medikit Ok Ah no Non è un medikit Boh Vabbè Per vedere i nemici Due nemici Le Almeno dovrebbero E poi niente Ma mi sembra un po' strano A me con questi due nemici Mi sa che Muoio Aia 500 Vabbè Continuiamo così Addio Questo cade Scusa No Vai diventa mio friends Bene Ti sei autoucciso Allora di qua giusto Perché di là che c'è Ma questi sono medikit Non ho capito Boh Quelli non le posso attaccare Quindi Bene Questo è morto Ma se sono autouccisi Con i barili In questi casi Avresti bisogno Di un aiutante Però Io preferisco usare Ucciderlo Come 30 gemme Beh Adesso si va in gemme Mi sa che la prossima Non la uso Se è troppo esagerata Allora Invece Si Era molto Difficile Non come mi aspettavo Un pochino Un pochino di più Che era quello Ah Quelli Che c'erano all'inizio All'inizio mi sembravano altre robe Grazie Questo è andato Ok Spero che il video vi sia piaciuto Io concludo qua Ci rimettiamo in un prossimo video Ciao Ciao